Grazie a tutti. Un po' questo quadro dirigente vi rivolgo ai nostri responsabili, ma poi dico a voi, anche come tramite per dei quadri quadri. Allora, io ho portato tantissimo le vostre considerazioni, mi ci sono ritrovata, lavorerei come mediatrice anche nella mia famiglia, perché veramente ho trovato una... ho ritrovato me stessa, ho ritrovato i miei pubblici. E a questo punto però con dei colleghi, a certo punto abbiamo scritto grosso così degli appunti, liceo quadriennale, punto di domanda. Cioè io credo che se la scuola deve fornire un ambiente per crescere, con tutto quello che avete detto, lo debba fare prendendosi dai piedi. E certe prospettive che noi abbiamo sentito si profilano all'orizzonte rispondono invece proprio a quella logica della velocità, della competizione, del rispondere alle delle richieste del mercato, che personalmente mi trovano veramente avvisceramente contraria e penso insomma a interpretare anche quali siano gli altri. Ecco, vorrei il vostro parere e rilancio naturalmente sempre, si stava un po' più in alto, visto che succedendo che c'eravamo visti ad un incontro all'università, e quindi dell'università e dell'università e dell'università, e lei era intervenuta quest'anno i problemi non ci sono restati sulle commissioni, ecco, sì sì, quindi chissà che, volevo il vostro parere. Più di un'occasione questa mattina si messo in evidenza come terminologie economistiche stiano entrando nell'essico scolastico e dietro alle tecnologie ovviamente ci sono delle pratiche, che è inevitabile poi, probabilmente per la formazione professionale, è importante stare attenti ad ascoltare le parole e mi pare che quando si è evocato questa deriva, questo spostamento verso una prospettiva, uno scenario di tipo aziendalistico-economistico, non lo si sia fatto, come dire, entusiasticamente, ma come se competendo in evidenza alcune problematiche di questo spostamento un po' concordato. Allora, la mia riflessione era proprio quella, partendo dalla parola, e mi ha capito il fatto che la parola, una questione che adesso dirò, non sia stata citata tra quelle che disegniamo nel scenario di deriva aziendalistica, che è la parola competenza, che ha un valore economico, la contabilità per competenza, diversa da quella per cassa, che ha un valore giuridico, fatti le tue competenze, stai dentro le tue competenze. Allora, la domanda che vi faccio, è se questo metterci nell'ordine di idee di questa trasformazione della didattica da quella che conosciamo fino adesso, quella che sarà per competenze, non sia uno dei segni di questa deriva aziendalistica. La mia intenzione personale è che lo so. Abbiamo affegolito una specificità che delimitava a tutti i bambini, è stato detto nel mio intervento, e questo è un corso per competenze, e si è parlato poi nel mio intervento anche della dispersione scolastica, anche nei grossi problemi. La mia domanda è, non abbiamo perso, vista invece o affegolito, la figura del docente, cioè, forse inteso anche un periodo antico, questo inteso solo. Allora, la prima cosa, allora, perché volevo dire, è che restiamo in questa, in tanto in questa logica di l'inizio di 4 anni, 5 anni o meno, perché mi vista a cosa c'era della scuola, che è al mio, nel mio intervento. Noi dovremmo impostare molto sull'apprendere e l'apprendere. Cioè, 4 o 5 anni non bastano, 5 anni di liceo, non basta neanche a università. Se io mi fossi tornata a università, non solo non sarei qui, ma sarei stato molto probabilmente un insegnante incapace. Sono fatti insegnante negli anni 70, 80, ma in una complessa evoluzione continua. Allora, quello che dobbiamo cercare di cambiare all'interno del segmento che stiamo operando è di non perdere di vista in futuro, guardando, magari soltanto, un presente musico piccolo. E misurare competenze che crescono in una scuola che abbia senso e non vivere, in una scuola che non si fermi. Quando io dico sono preoccupata perché non mi rendo interessati nel cinema, perché il cinema è una forma di arte. Se non è il cinema, perdono questa possibilità di arte. E questo è quello che è molto più importante. Su questo, in realtà, forse è una questione delle competenze. Noi dobbiamo, ad esempio, mi sento sempre, ogni anno in cui insegniamo, quali sono, chiamando le competenze così, ma quali sono, diciamo, gli obiettivi fondamentali che devo raggiungere quest'anno. Io ho operato nella secondaria di primo grado e dicevo, parli obiettivi, ad esempio, voglio che i miei studenti, quando restano, sappiano parlare, sappiano leggere due testi per soli, senza bisogno di uno, e sappiano studiare con passione. Allora, per finire, per insegnarsi fino a un terzo competenze, io ci voglio tre anni, secondo me, lentamente, io ho proprio l'obiettivo di competenza e in questo obiettivo, come posso dire, mazio obiettivo, ci infilo in mezzo tutte le strategie, tutte le azioni che mi portano quell'obiettivo. Se l'obiettivo è la lettura, io ho potuto rinunciare a leggere in classi testi che mi piacevano, perché a loro dovevano piacere, a loro mezzo, quindi ho messo da parte i libri e ho tirato le aziende, ho creato un po' di turchia, che non mangia lei neanche, ma a loro faceva davanti, perché è apposciuto. c'è una ragazza che mi diceva, io leggo tutto Anni, brava, io li devo invitare, però l'obiettivo non era, in terzo media, lei mi ha letto, cantava, la storia di Ersonant, una lettura perfondita. Allora, i contenuti sono importanti, ma non ci dobbiamo lasciare a prima parte dalle parole e da chi sta, diciamo, dirigendo una forma, perché è sempre stato questo. Vi faccio un altro esempio, una delle più belle forme che l'Italia ha fatto sulla scuola e quella riforma che ha scolamenti, che si ripetono la religione, che ha un documento scritto, poi, per quella riforma eccezionale, è stata una macchina coppia, a cui ha fatto un ferimento intero per quella riforma. Noi non abbiamo neanche mai applicato il riforme. Allora, a volte ci lasciamo un po' di libro, dobbiamo le parole. Non ci fanno un po' di fatto, non c'è il secondo me. Non ci stiamoci, però non ci studiamo il percorso in cinque, anche anni di liceo, che siano, però, buoni perché non avevano la spinta per costruire gli studi, per seguire il futuro, per comandarsi nel lavoro e per saper seguire il meglio per sé, quello che voglio dire. Ovvio, il topo per lo spazio agli altri. Grazie. 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 Ricordandomi, ovviamente, concordo sul fatto di non assolutizzare semplicemente un principio di durata degli studi, che sia nelle invenzioni che purtroppo risponde solo logiche, ancora una volta, di adeguamento a o di quello non obiettivo. Purtroppo non si può studiutizzarlo perché la gestione è quello che viene in quel tempo. Il tempo scuola, ma anche adesso, all'interno di scuola, può essere troppo o troppo poco in relazione a come lo usi e a cosa ci fai. In generale, io penso che debba esserci più scuola. Ovvio, una scuola poi è ben vita e abitata in un certo modo. Penso che debba esserci più scuola anche perché la realtà è quella di... La realtà attuale è quella di persone che comunque poi hanno dei percorsi così lunghi, così anche tortuosi per arrivare poi a una definizione, a una collaborazione, solo una scelta professionale, però tendenzialmente penso che se per il tempo è più strutturato dentro un'istituzione che ha preciso mandato, io credo che questo sia meglio. Certo, dipende anche poi da come lo si riempie e da come lo si applica. I processi informativi, come si diceva, richiedono tempi lunghi. Richiedono tempi lunghi che non sono sempre tempi del fare, dell'intervenire, per raggiungere, del trasmettere. Sono tempi di elaborazione, sono tempi di esperienza, sono tempi di sperimentazione. Quindi tempi lunghi che devono essere anche molto modulati, modulati in modo diverso. e io credo che è un tempo che più scuola possa fornire l'occasione forse anche di interrogarsi di più su come si riempie questo tempo, su come si discutono le cose e possa anche contrastare questo principio di rapidità, di efficienza, di competizione, di adeguamento, di addendimento. È sempre una questione se adeguiamo e ricordiamo i tipi esterni o se ci interroghiamo sul senso di quello che si fa. Dunque, rispetto alla questione delle competenze, ma giriamo sempre nello stesso ambito, almeno io dico così le vostre domande, riguardo al fatto delle competenze, io sono molto d'accordo. Ed è vero, l'intervento mi ha fatto anche chiedere, mi ha fatto autointerrogare su come mai, pur essendo molto critica, su questo ingresso massiccio di, non sono solo i termini, i termini entrano anche loro significati, i termini costruiscono significati e costruiscono anche comportamenti. Quindi, tra tutto questo massiccio ingresso di termini che vengono da altre parti, non cito competenze. credo perché il discorso sulle competenze mi preoccupa e lo critico da un altro punto di vista. mi sembra, purtroppo, anche una delle parole d'ordine, ovvero delle mode pedagogiche che si susseguono, magari a partire da una dimensione e da una logica condensibile, ma che poi, veramente, perdono tutto il loro significato. E quindi rimangono paolo a voto. Ce ne sono state tante. Ti faccio anche accenni a questo. Ce ne sono state tante. e allora, per me, è sempre un po' doloroso perché mi sembra un'occasione interse, ma, che adesso si diceva, alcune leggi, alcune leggi, alcune leggi, alcune, sono state delle grandi occasioni perse, non realizzate. Sulla competenza, sì, ho innanzitutto questa critica, perché poi, quando mi è capitato di essere chiamata a lavorare sulla competenza, io ho cominciato, con un'abitudine della mia formazione, stavo scontrando un po' questo termine e dicendo, ma allora, cosa vuol dire competenza? Cosa vuol dire che significati attribuiamo? E, in questo senso, si riconduce a termini, a categorie che magari ci riguardano di più, ci interessano e ci servono di più. Credo che, giustamente, sia stato rivelato che appartiene a quell'ambito, se non altro perché le più elaborate definizioni che ho trovato di competenza, alludono al fatto che questo termine serve a far rincontrare due ambiti solitamente separati, cioè sapere che fare, no? Questo, che va benissimo che la scuola, appunto, non separe, però la forzatura delle competenze per cui queste, come dire, le conoscenze di per sé non bastano. Bisogna che queste conoscenze si esprimano e si producono in un saper fare che, tra l'altro, lascia sempre scoperto il terzo cuore, perché c'è lo sapere, c'è lo saper fare, c'è lo saper essere, per esempio. Per chi non è considerato, dovrebbe proprio piegare la conoscenza sull'uso della conoscenza. Quindi concordo, secondo me, l'altro dice quella, forse il successo è quello o forse è semplicemente una nuova categoria che ci sembra in domani di lanciare la questione didattica. Io non lavoro volentieri su questo, ripeto, in genere, se non smontandola e ritornando, per esempio, a pure la domanda, no? Del rapporto fra le pratiche didattiche che sviluppano la coscienza, che rapporti hanno nel fare, se nascono, non solo se sono destinati a una maggiore capacità produttiva, ma da cosa nascono. Quindi, sono d'accordo su questo rilievo e credo che dobbiamo usare questo termine, ma risematizzarlo in modo che corrisponda a quello che abbiamo in mente noi, per il significato, anche perché, chiaramente, le parole vuote diventano veramente pericolose, insomma, ne diamo molto più troppo tanto nella scuola e nella pedagogia alla sua responsabilità nelle prediche. E poi, invece, rispetto all'ultima domanda, dunque, non si è affievolita anche la figura del docente? Io non so bene, ma in ogni caso è quasi la stessa la mia risposta, se si intendesse sia affievolita come immagine sociale, pubblica, come prestigio, come dignità, o sia affievolita nell'ambito delle pratiche formative della scuola. in ogni caso, mi sembra che si possa dire, certo, io alludevo non tanto all'ultima spievolimento, ma a, sì, per attenuarsi, quando parlavo di genitori, di bambini, di adolescenti, a uno sfumare di identità più forti. e, in questo senso, certamente, questo riguarda anche gli insegnanti. Io, da molto tempo, vado dicendo che vorrei, non so come, che sia la scuola di esatto di istituzione, riprendesse con grande forza e grande determinazione che la scuola e la consapevolezza del suo mandato, rivendicasse che quel mandato è un mandato esclusivo, non nel senso che non ci siano altre agenzie educative, ma che la scuola è un'agenzia educativa un luogo diverso. Cioè, io credo che la scuola dovrebbe molto rinforzarsi nel rivendicare che sa qual è il suo mandato, lo sa compiere, lo sa analizzare in modo specifico e questo comporta, ovviamente, il movimento degli insegnanti di rivendicare la dignità, la legittimità, la competenza, poi lo usano nel senso pieno, la competenza del genere. Io da molti anni, purtroppo, ma in un milionario più perché non è una novità, ho una grande rabbia rispetto a un'operazione mediatica che si è fatta e si fa allegramente di, come dire, accuse alla scuola, di denigrazione del lavoro della scuola. Cioè, ho una grande rabbia, ma anche una grande inconscia perché mi sembra proprio un suicidio. Cioè, quando abbiamo discusso l'idea che la scuola non funziona, che la scuola non fa il suo lavoro, che insegnante, che cosa abbiamo avvenuto? Abbiamo intervoluto moltissimo la scuola perché già adesso io soffro l'idea che si sia perso una cosa che ha caratterizzato il passato in cui la scuola o l'agenzia è guardata e vissuta con rispetto dalle famiglie, dai suoi allievi. Cioè, questo attacco generalizzato che ha portato i bambini, non so, fin da piccoli, a vivere in mezzo ai discorsi che fanno perdere la certezza di un riferimento dolorevole. A me sembra veramente un'operazione molto dolorevole. Ci sono dei motivi, ovviamente. Non sto dicendo che la scuola non ha delle crisi che non... ma sto parlando del fatto che il fermarsi a questa denuncia, il diffondere questa consapevolezza in denuncia, uccide un'altra possibilità formativa e di riferimento per i nostri piccoli e i nostri giovani. E di contro penso che invece bisognerebbe fargli tutto per un movimento in cui la scuola riprenda pieno, ma anche ridefinisca, ridiscuta, circoscriva il suo mandato. Io credo che sia per la scuola in generale, sia per il mio signore, una minaccia grossa sia stato proprio lo suo mandato, cioè il periodo in cui nella scuola si sono messe tutte le educazioni del mondo, no? Dalla stradale, con le figlie, tutte. Allora, da un lato, se io faccio l'educatore e il formatore di un bambino, di un adolescente, lo formo e non potrei formarmi senza occuparmi anche dell'affettività, anche della formazione di cittadino, no? E quindi non, forro specializzare. Primo. Secondo, la scuola deve avere un mandato che sia anche in qualche modo delimitato, preciso e forte. Non può subire a tutto ciò che non c'è altrove, a tutto ciò. Ecco, quindi, mi è sembrato grave il contato. E c'è stata una stagione in più, veramente, non so se si è finita a fiorire, insomma, in questo senso. Anche quello mi sembra un movimento pericoloso, perché credo che sia per il contrario, che la scuola, che ogni scuola, poi nella sua autonomia, ovviamente, nell'empiere quello che è il suo mandato anche centrale, rinforzi la sua identità, rinforzi la sua proposta, la legittimi, la fondi e la proponga con forza e con autorevolezza. E questo, ovviamente, parla della scuola, ma la scuola è fatta soprattutto anche di insegnanti. Quindi questo ricade il suo profilo di insegnanti. E io spero, lavoro, vorrei che questo movimento si sviluppasse. Infatti, andiamo oltre qualsiasi denuncia di crisi, andiamo a trovare, a riprogettare, a sperimentare, a ribaltare le ultime scolastiche, andiamo a proporre qualcosa di generativo e avvistando quella dignità, ma anche quell'autorevolezza che è necessaria a un'agenzia normativa. Quindi, sono d'accordo, non deve afficolir superiormente. Grazie. 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 Ho due parole proprio su quello che ho detto e di molti volte su cui sono assolutamente d'accordo. Parto dalla competenza perché effettivamente si tratta di un termine di credenza sempre più detto, sempre più portato in parlo, senza mai definirlo in maniera molto più chiara, ponendolo come al periodo delle conoscenze, come se la conoscenza non avesse un valore. Io credo che ci sia una delle parole più belle che ci siano, che conoscere qualcosa che non venga più concepito come un arricchimento e quindi io lo trovo come il mio poverimento che proponiamo a scuola. D'altra parte è vero che stiamo venendo fuori sia in Italia che specialmente nel Montano Rosassone tutta una serie di posteriore complicazioni che poi appunto fanno pensare che questo termine, tutto sommato di concentrarsi sul termine non sia poi così fondamentale perché, allora, abbiamo competenze, conoscenze, abbiamo antitudine, ma antitudine come rappresentiamo noi non è antitudine nel senso anglosassone, allora abbiamo tutta una serie di termini che cercano di descrivere, ma poi andiamo alla demotazione ma perdiamo il senso di quello che vogliamo andare a descrivere. Quindi forse ecco, credo che concentrarci più su cosa si apprende a scuola, indipendentemente dal fatto che poi si cerca di chiamarlo in un modo in un altro, possa essere la strada giusta e la strada costruttiva. Rispetto al tempo io credo che ci sia appunto a volte da sorridere perché si parla di scuola sempre più veloce, sempre di maggiore velocità nella scuola. Credo che appunto quello che veniva detto prima, per cui quello che da vedere nella scuola è tempo di qualità e imparare a imparare, perché il punto credo che sia questo della scuola, quello che ti dà alla scuola non si esaurisce quando esci con il titolo di studio, ma un'altra cosa che ti porti dietro come un modo di fare, come una costitura, come un modo di porti rispetto alle cose e che porterai avanti in tutte le persone e in tutta la tua vita. Questa è una cosa che dà la scuola e dà una scuola che si pone in un certo modo, che si pone appunto come un rispondente alle esigenze dei consumatori, ma si pone come guida all'interno della società. Credo che questo sia un qualcosa di fondamentale. Credo che questo ruolo della scuola come centro di una comunità che vuole essere un'interdura di tutti coloro che vogliono imparare qualcosa, abbiamo essi, noi devono imparare qualcosa, 0 o 50 anni, perché poi comunque c'è un'attitudine alla formazione di credo studiato, soprattutto con l'esempio, perché il fatto che il proprio docente sape sempre qualcosa di nuovo, impari qualcosa di nuovo, proponga qualcosa di nuovo, non racconti la propria disciplina, così come la grande università, ma sia qualcuno che nel momento in cui vuole imparare qualcosa, vuole uscire qualcosa in prato di farlo. Ecco, credo che questo sia l'esempio che spinge a voler imparare, la figura del docente è una figura alta, ci diceva prima la professoressa, comunque qualcosa di una figura da cui gli allievi si aspettano tanto. Ecco, credo che questo esempio sia quello che è qualificante nella figura del docente, e di nuovo una parola che è autorevolezza, che sì, forse ha meno autorità di quella che ci ricordiamo noi quando eravamo nei banchi, in senso però un'autorità un po' formale, ma viene richiamata ad avere sempre più autorevolezza. che io sinceramente credo ai docenti, sia per il lavoro, sia come spavolvere comunque nella scuola con il genitore da un altro punto di vista, credo che sia un qualcosa a cui la scuola e gli insegnanti riescono a rispondere, cioè riescono a porsi, sì, non più come l'insegnante di cui il genitore ha paura perché può dare l'insufficienza, può dare il credito, il ragazzo ha paura perché appunto può farti sentire al di fuori da una realtà, ma come l'insegnante che è un professionista di qualità altissima, di professionalità elevata, sempre rinnovata, e credo che questa figura, semplicemente grazie al lavoro degli insegnanti e di tanti insegnanti, stia avendo il fuori, quindi credo che una scuola che ti dà tanto esempio, tanti strumenti per gestire il tuo modo di essere, di imparare e di sapere, in tutta la vita, sia quello verso noi si può oggettivamente puntare per la qualità del materiale umano che lavora nella scuola, sia con la comunità che con le istituzioni. Se da parte mia ho una concentrazione sul problema che ho fatto il mio collega rispetto al schema delle competenze, un tema centrale di nostro lavoro. Allora, d'accordo sul fatto che il termine competenze ha avuto diverse eccezioni nel tempo, ed è nato assolutamente come una città aziendalistica. D'accordo sul fatto che credo che, in un momento, i significati che si possono anche parare la tecnologia del termine, in particolare da quel punto, all'interno di questo allone che noi non vogliamo inviare, apprende invece un discorso di relazionalità, componenti sociali che ci siamo più importanti. Credo che il termine sia evoluto di tempo, perché attraverso l'esperienza che si è stata fatta in questi dici anni nelle scuole, si siano scoperte nuove riflessi. Invito tutti voi ad abbandonare questi termini di competenza, un posto che era utilizzato dall'uso rispetto al lavoro che noi andiamo a fare. E questo, ho dichiarato nella premessa, credo abbastanza chiaramente. Non vogliamo assumere vecchi termini o vecchie strategie e dare una radiciatura perché servono nuovi o che servono a portare cambiamenti sostanziali nel nostro lavoro. Vogliamo, come dice, possiamo, come dice la professoressa di spazzar, risentire e semantizzare questi termini, cioè scoprire quei componenti che fanno riferimento allo sviluppo e all'articiatura umana. Il termine ha una competenza, ha una definizione precisa che è stata data all'interno dell'ambito europeo, all'interno del mio proponimento, e quest'era, il quadro della competenza, e fare seguito come struttura, come costrutto, a tre elementi di conoscenze, di abilità e di atteggiamenti. Tremini che sono molto intensi, molto insensivizzato, che possiamo di elaborare, che possiamo amicchire attraverso, e spero che si arricchiscano, attraverso il lavoro che andiamo a fare, che già sono stati sfaccettati con molti elementi, facendo elementi soltanto discorsi e appreggiamenti, sono stati messi in rilievo un numero di elementi, dalle relazioni, una bilancia attiva che provoca comportamenti di interesse e di partecipazione da parte dei ragazzi. Molto anni diceva che la parola in tali che la dice e in tali che l'ascolta. Il nostro percorso è quello di condividere, siamo chiamati questa parola, ma di condividere in un senso pedagogico, quindi aziendalistico o tecnologico. L'augurio è che sia una semantizzazione che porti a un'artifizio della nostra identità professionale, che sia una semantizzazione che vada a costruire elementi della comunità professionale che forse in questi anni, in un po' a sfondo agenzialistico, abbiamo perso, ma che fanno parte di una tradizione per la vostra che è molto forte in Italia. Andiamo a scoprirli, a richiamarli insieme, a trasferirli nelle nostre classi. Magari a termine, a giugno, non useremo di farlo la competenza. a me il problema è che questa soluzione non propria continuamente. Può darsi che troviamo una nuova parola che è sotto tutti i scassi, spero che troviamo un senso, un nuovo modo da dare al lavoro che facciamo nelle classi. Vi lascio una riflessione con la provocazione. La trago dalla mia esperienza, prima da vecchio preside e poi da dirigente dell'ufficio. Riguarda il contenzioso, che abbiamo con molte famiglie, sempre di più, crescentissimo. Mi direi che vorrei, ma il contenzioso è una patologia? Certo, il contenzioso è una patologia, ma è già anche una fotografia della realtà. piccola, patologica, ma c'è. A cosa voglio fare riferimento? A queste frasi, spesso ricorrenti nelle memorie, nelle relazioni degli avvocati e anche di molti genitori arrabbiati con la scuola, con gli insegnanti, spesso con la volta sotto la scena, spesso in malafere. Ma il segnale, secondo me, è un conto. E la frase è la seguente, più o meno. Anch'io so insegnare il mio figlio anche meglio di quanto fa con gli insegnanti. Guardate che tutte le volte che leggo una frase simile, detta anche bene, detta con termini giuridici, detta con tutto quello che volete. È come se avessi un colpo al cuore. Perché è possibile che in quella realtà scolastica ci sia qualcuno che non è stato capace di affrontare con quella famiglia, con quel genitore, questo problema. Abbiamo genitori ipernarcisistici. Ma il fatto che queste frasi escano sempre più frequentemente, guardate, pensateci, parlate neanche dei vostri imparimenti, ma sono un problema grosso per la scuola. E come dire? Per il semplice fatto che io ho alle spalle anni di scuola, per il semplice fatto che magari sono pure laureato, e se fossi laureato bene non dovrei dire il vostro genitore. Comunque avrei dovuto prima prendere approcci, cercare di capire, magari sono stato anche in città, perché tu capisci frate, perché non è vero così. Allora, se così è, secondo me, dov'è? Dove potrebbe essere il problema che riguarda il tema della competenza? Ed è la domanda che io vado sempre facendo quando parlo tutti gli anni a, sto a perdere migliaia, ma centinaia di docenti ne ho rimessi da un uomo. E dico che secondo me, la prima domanda che loro si devono fare, che deve continuare per tutta la vita professionale, almeno così ho fatto io, è la seguente. Perché insegno le cose che insegno? Secondo me, lì ci sta, anche, molto, del che cosa intento io per competenza. E faccio un domanda, e faccio, scusate, un riferimento banale ad un esempio banale che faccio comunque. Ma perché io devo insegnare, io professore di matematica che non lo sono, perché devo insegnare teorie maledità? C'è qualche professore di matematica che si è posto questo problema? Tutti! Ma c'è anche qualcuno di altri dipartimenti che si è posto questo problema? Ma perché il mio collega di matematica insegna teorie maledità? Pitagora? Per esempio, in questione di geografia o di lettere U, si è posto il problema perché insegna il mio collega di matematica il teorema di Pitagora? Se non perché magari io ho arrivato un uomo, come hanno fatto le quadrette, alla stazione ferroviare di Brimole, devo stabilire qual è la strada più breve per arrivare in Giorgia? È una risposta riguarda il professore di matematica? Per me lo è da non matematico. Lo devo insegnare? Io non devo insegnare il teorema di Pitagora. Perché non c'è scritto da nessuna parte che i miei alunni debbano per forza sapere il teorema di Pitagora? Non so come fare la prosenza, ma faccio un esempio banale e la risposta spero che non sia altrettanto banale. Allora, come si parla di deriva aziendalistica rispetto alla competenza? Secondo me non c'è niente di più in concreto e niente di giuridico, niente di economico sotto il tema della competenza se non questo. Ma dirò di più anche per fare dirigente dell'amministrazione. Ma come mai è uscita fuori la questione dei licei quadriennali? Ci potrebbero essere altre risposte. Intanto questa questione del quadriennio o comunque della riduzione di un anno rispetto all'uscita dalla secondaria di secondo grado a 19 anni è un tema antico quanto il mondo. Perché carico lento, scusatevi tanto, ma quasi tutti, siamo rimasti con il Portogallo se non erro, quasi tutti i paesi europei fanno uscire loro studenti a 18 anni e i nostri a 19. Potrebbe non voler dire nulla, ma una cosa sicuramente la dice e che comunque valano le cose, realtà da guardare in faccia, capisco che noi siamo degli educatori e abbiamo giustamente altri pensieri, ma guardiamo in faccia questa realtà, i nostri ragazzi che sono a 19 anni sul mercato europeo, scusate il termine aziendalistico, saranno forse, probabilmente sì, svantaggiati. Allora, vogliamo tenere conto di questo fatto o no? Grazie, buon appetito, e vi dico che la cortesia del Tresch e del Vergese e dei suoi studenti fuori managlio scolastico a mettere a disposizione le loro competenze ci faranno un gran piacere. Arrivederci a tutti.